I primi due brani invece erano dal nuovo disco New York Days Si intitolavano Lulu e Luna Urbana Mentre invece questo brano si intitola Interiors E' un nuovo titolo perché io precedentemente avevo dato un titolo molto più poetico Che era Lost Birds Ma Bollani, che è uno spirito un po' bizzarro Secondo lui in italiano Lost Birds, che vuol dire uccelli persi chiaramente Secondo lui aveva un senso che io non ho capito bene cosa Ma comunque per fargli un piacere, siccome è un bravo ragazzo Allora adesso si chiama Interiors 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 Allora si chiama Interiors Allora adesso si chiama Interiors Allora 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 si chiama Interiors